Quante euro hai? Quante euro ci fai? Distante sicuramente Da 15 euro Questa è in Grecia E che io sono in Grecia Ma io ho detto che sono un'antilina Visto proprio Vado a me partire Isù Vado a me Vado a me Vado a me Poi credo che sono posti a Russia Si stanno collaborando Faciti da qui lì E che bello, come hai uccellente? E qui le gabbiano Vado a qui lì la dà Ma che sono? Chi è lì là? Gabbiano Fa lo gabbiano Fa per che si mette paura Gabbiano quando vuoi questi due Fanno pochi rumori e ora lo giro 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 e ora lo giro